Ciao! 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 Come vi chiamate? Lucia, io sono Valeria. Brava, questa volta non ho l'avvolto. Che cosa fate qua nelle cliniche Doneldu? Assistente alla poltrona. Anche tu, sì. Anch'io, forse sì. Ma voi siete le nuove? No, noi siamo le assistenti più vecchie, si fa per dire, perché siamo le più belle, che si fa. E poi ci sono io, sono un po' vecchie, un po' nuove. Ah sì, ma avete un dottore preferito per caso? Sì, dai, più di uno. Il mio è Milo. Milo. Il mio è Andrea. Il mio è Roberta. Forse anche Sargenteda. Dottor Doneldu. Chi è Dottor Doneldu? No, non lo conosce più? No, no. Sì, non lo conosce più. Sentito luminale. Ma quello con i capelli bianchi, un po' vecchietto. Sì, più anziana. Ciao Nicola. Ciao Nicola. Salutatelo almeno. Ciao, ciao Nicola. Ciao.